Ciao e bentornati a uno spavigliante canale Anissa Superstar Bocciati, ma proprio bocciati Ma bocciatissimi Tranne uno che lo boccio però gli voglio bene Cioè nel senso che mi piace ma lo devo bocciare Con calma Guarda, comincio con un prodotto Potrei fare un video intero dove parlo male di lui Ma parlo male nel senso che se lo merita che io dica cose non buone Eyeliner di Yves Saint Laurent Che si chiama Shocking Effetto ciglia finte Allora Shocking nel senso che mi ha scioccato il fatto che io abbia speso Un bel po' di denaro per avere un prodotto Che non vale neanche la metà di quello che costa Forse non avevo capito io bene di che cosa si trattasse Perché il tempo che lo stendi praticamente è quasi completamente Banificato quello che ho fatto Quindi sono scioccata dalla velocità di sparizione Dovremmo chiamarlo Udini Ma no non è Udini è un eyeliner che in teoria prometteva cose mirabolanti Cominciamo dall'inizio Non è semplicissimo da stendere Mi sta bene il pennellino perché è un po' uno di quei pennellini duri Io amo questi pennellini perché in realtà questo tipo di pennellino a me agevola tantissimo la stesura Ciò nonostante il prodotto in sé non è proprio scorrevole da stendere Di questo in penna Quello a calamaio sinceramente non l'ho provato È detto con molta franchezza Se questo si comporta così non ho moltissima voglia di spendere altri 30 euro Per poi lamentarmi di un prodotto Quindi mi fermo a lui Quindi dicevo non è proprio facile facile scorrevole nella stesura E adesso orvogliamo su questo Il tratto non è subito o immediatamente nero intenso Quindi bisogna ricalcarlo È un prodotto che tende a stratificarsi Quindi se non sei molto abile nello stratificare questo prodotto che tende a stratificarsi Si vede quella parte un po' crepatina che a me dà fastidio Altra cosa la codina Quando faccio la codina Il tempo che io faccio una codina Passo all'altra codina E poi magari lo metto a posto Prendo il mascara Vado per mettere il mascara La vedo che la codina la prima che ho fatto Già è un po' sbiadita Quindi devo ricalcarla E se lo ricalchi Si vede la stratificazione di prodotto Non regge sudore Ma ci sta anche Però voglio dire non regge neanche a una rampa di scale Perché è arrivato il corriere Non regge, non regge niente Non mi piace In compenso è molto facile da struccare Ma ci credo che è facile da struccare Perché praticamente per quel che rimane Dopo un paio d'ore che è stato steso Che non c'è niente da struccare Quindi è facilissimo da struccare Guarda te lo dico con tutta la franchezza che posso Mi dà fastidio Avere speso tanto per un eyeliner Che non serve a niente Lo sto continuando a utilizzare per questo Dico la verità ma Parliamo di semi permanente Eventualmente ti lascio qui Il minutaggio da superare Per arrivare all'altro All'altro argomento Se non ti interessa L'argomento semi permanente Ho comprato un Top coat Di Mesauda L'ho comprato un po' di tempo fa Io ormai il semi permanente Lo vorrei fare all'estetista Per un semplicissimo motivo Il semi permanente Lo posso fare solo la sera Alle mani Allungandomi le unghie Con una velocità Incredibile Io teoricamente Se lo facessi a casa Lo dovrei rifare Ogni 7-10 giorni E non sono 7-10 giorni Detti tanto per dire Attenzione 7-10 giorni Io ho già una ricrescita Di almeno 3 mm Ecco perché Evito di fare i colorati Perché Non mi piace Questo Questo stack Unghie, peli e capelli Ragazzi A me crescono Alla velocità della luce Sempre Lo faccio ai piedi Ancora a casa Dall'estetista Preferisco farlo alle mani Perché l'estetista Da quando inizia A quando finisce Impiega 20-25 minuti Io impiego più di un'ora Perché devo fare una mano per volta E lo posso fare solo la sera E negli ultimi mesi Mi sono ridotta la sera Talmente tanto stanca E indaffarata Da non averlo più fatto E io mi sono detto No Mi voglio dedicare Questi Questa ventina di minuti Una volta ogni Due settimane Due settimane e mezzo Vado dall'estetista Sì ho la ricrescita Infatti faccio i nude Così non si vede moltissimo Anche se Ti ripeto Se io potessi Lo farei ogni 10 giorni Però Capisci Non è possibile Detto questo Ai piedi Lo continuo a fare io Perché i piedi Sono decisamente più veloci Posso fare tutti e due i piedi Contemporaneamente La ricrescita c'è Però insomma Per adesso L'ho fatto io a casa Ho comprato questo top coat Di Mesauda Che è un top coat Express shine All'inizio Diciamo bellissimo Questo top stupendo Ora ho notato È un top coat Senza dispersione Quindi non va sgrassato Come viene detto In gergo Quindi non va tolto L'ultimo strato Di dispersione Del top Resta opaco Cioè si opacizza Sembra sporco Non so che dire Ho provato A in realtà Sgrassarlo Ecco Perché ho detto Vabbè Io all'ennesimo Ho detto Passo lo stesso Il prodotto Ma rimane sempre opaco Quindi non so che dire Guarda Lo continuo a utilizzare Perché ce l'ho Per adesso Lo utilizzo ai piedi Ok Non me ne lamento Più di tanto Però sinceramente Se fai Semi permanente A casa Sai Mi ha un po' Lasciata così Questo prodotto Per me È un no Ecco Vediamo Al prodotto Boh C'è un altro bocciatissimo Aspetta Aspetta Perché l'avevo messo Da un'altra parte Perché avevo paura Che cadesse Se ne fa un gran parlare Io l'ho boccio L'ho comprato In tempi non sospetti Perché Avevo fatto vedere Delle fotografie Scattate da acqua e sapone Dicendo Uh interessante Questo prodotto Mai visto Mai sentito Una ragazza mi ha detto Prendilo Perché è sold out Negli Stati Uniti Da un sacco di tempo Dicono che sia pazzesco Il giorno dopo Sono tornata da acqua e sapone L'ho comprato L'ho utilizzato Il giorno stesso L'ho utilizzato altre due volte E l'ho messo da parte Perché No Tre volte Perché qua c'è C'è l'indicatore Quindi in totale L'ho utilizzato quattro volte E lo boccio Balsamo Lamellare Se ne fa un gran parlare Dream long Otto secondi Wonder water Balsamo Lamellare Trasformazione immediata Dieci volte più lisci Istantaneamente districati Senza siliconi Non appesantisce È vero Non appesantisce Per il resto Non so di che cosa stiamo parlando Vabbè Allora I miei capelli Sono dei capelli Tendenzialmente lisci Tendenzialmente morti Quindi Allora Con ordine Non mi piace la profumazione Per niente Quindi io mi sento Questa profumazione addosso Lo trovo molto scomodo Ad utilizzare Perché è vero Sì che qua dietro C'è l'indicatore di dose Cioè scritto nella confezione Ma mentre sei sotto la doccia Come caspita Fai a regolarti Su quanto ne stai mettendo Cioè Simuliamo l'azione Aspetta che lo chiudo Cioè come A che stiamo Ho provato a metterlo sulla mano A distribuirlo Ma non mi è piaciuto Ho provato a spruzzarlo così Ma non mi è piaciuto E non riesco a distribuirlo In modo omogeneo Su tutta la lunghezza Dei capelli Non mi piace Non ho visto tutto questo Grandissimo risultato Che promette Ma soprattutto Ho letto delle recensioni Con le quali io Non mi trovo d'accordo A questo punto però Mi viene Un dubbio E infatti lo dico Possibile pure Che per me Non sia stato Questo Questo balsamo Miracoloso A dispetto Delle altre recensioni Che invece sono entusiaste Perché io ho i capelli decolorati La lunghezza dei miei capelli È decolorata E diciamo Questo è il mio colore naturale Quando lo vedi più chiaro È decolorato Ponendo l'ipotesi Che siano i miei capelli decolorati Che non percepiscono molto Il prodotto In ogni caso Lo trovo Molto Spratico Da utilizzare Soprattutto per chi Come me Lava i capelli Sotto la doccia Perché sotto la doccia Non si può distribuire Il prodotto In modo uniforme Seguendo tra l'altro Le indicazioni di utilizzo Del prodotto Su tutta la chioma Soprattutto se Chi come me Ha i capelli lunghi No Bocciato Bocciatissimo Forse ne provo un altro Della testa nera Che ho visto Non appena lo trovo Perché non l'ho cercato Essere sincera Ma non l'ho trovato Di questa tipologia Lamellare liquido Questo prodotto Mi è stato omaggiato È di It Cosmetics Hello Lashes Mascara Volumizzante 5 in 1 Forse fa 1 Lo scovolino È molto particolare Perché ha forma di funghetto O freccia Decidito una delle due Comunque particolare Allora Io sui mascara Mi faccio sempre un'idea Dopo almeno Una settimana Forse anche 10 giorni Forse anche 15 giorni Perché Quando sono troppo liquidi A me non piacciono La primissima volta Che l'ho utilizzato Ho detto Oh vabbè Ciao Non abbiamo fatto niente Però Quello poi sai Io mi conosco Quindi faccio passare Sempre un po' di tempo Prima di dire Una parola in più Su un mascara Con gli anni Ho sempre più apprezzato Gli scovolini In silicone Perché mi sono accorta Che per le mie ciglia E per la prestazione Dello scovolino In silicone stessa Le ciglia Vengono favolose Cioè obiettivamente Questo mascara L'ho utilizzato Per un bel po' Non mi ha mai dato Piena soddisfazione Allora Una parte di me Vuole bocciarlo Una parte di me Invece Lo vuole rimandare Dici tu In che senso Facciamo che Gli do altre 3 settimane Facciamo un mese Dai Un mesetto di possibilità E ne riparliamo Però mi è sembrato Veramente molto strano Che nonostante Già siano passate Diverse settimane Da quando l'ho cominciato A utilizzare Le prime volte Il prodotto in sé Anche aprendolo E raccogliendolo Io lo sento Che è più denso La prima volta Era proprio liquido Così come tutti I mascara nuovi Insomma Sai che cosa Mi lascia un po' dubbiosa È un po' difficile Da stratificare A me il mascara Piace dato 2-3 passate Lui 2-3 passate Adesso non me ne ha date Mi è capitato Con un altro mascara In passato Che poi con il tempo Si è rivelato favoloso Che era un mascara Di Eva Garden Che Quando l'ho utilizzato La prima volta Ho fatto Cioè le prime Due settimane Dopodiché Ho cominciato a dire Questo è il mascara migliore Della terra E perché ancora Non avevo provato Un'altra ancora Perché in questo momento È il mascara migliore Del mondo Per me È il pillow soccer Di Charlotte Tilbury Però Però Io di questo Mi ha penetrato Credo Uno scoglio Nell'occhio Non un moscerino Sento una cosa grande Così Dentro l'occhio Se mi vedi lacrimare Non sono commossa Ma continuo ad avere Lo scoglio Dentro l'occhio Vabbè dai Facciamo una cosa Lo rimando Dovrei utilizzare Un altro po' Perché Lo scoglino È pavoloso E io Sinora Non mi sono mai Trovata male Con nessun altro prodotto Di It Cosmetics Utilizzato Anzi Il loro Correttore È tra i migliori Che abbia mai provato Però era giusto dire Guarda che dopo due settimane Io ancora L'effetto wow Non l'ho visto E questo prodotto Promette effetto wow Ma anche questo Prometteva effetto wow Qua di wow Non c'è proprio niente Ma anche lui Prometteva effetto wow E proprio lui Guarda Sono arrabbiatissima Perché è costato Un sacco di soldi Allora Ritornando un attimo Ma semi permanente Anche in questo caso Ti lascio qui il minutaggio Se vuoi andare avanti Se vuoi saltare Il pezzo semi permanente Sempre di mesauda Soluzione detergente per unghie Per la rimozione del gel UV Non mi piace Non ho molto altro Da dire sulla faccenda Non mi piace Secca da morire La zona circostante L'unghia Secca da impazzire Le cuticole Che poi diventano Veramente quasi ingestibili Da trattare Non rimuove Come piace A me Lo trovo molto aggressivo È poco efficace L'ho utilizzato Per almeno Un anno e mezzo Perché in realtà Tra Chiusure Tra Una mezza mia pigrizia Tra Non voglio spendere tantissimo Tra Questo non lo conosco E diceva mia nonna Meglio tinto canosciuto Buono a canoscere Cosa del genere Ho continuato a comprare questo Non mi piace Non lo compro più Finisco questo qui E basta Mesauda L'ho lasciato per ultimo Perché mi dispiace da morire Perché Allora Mi piace Perché lo boccio Perché non si sente Cioè No Non è persistente Serve a niente Cioè Serve quando lo spruzzo E basta Cioè Non mi Non mi Profumano Neppure i vestiti Fiori d'arancio Della Conca d'oro L'isir di profumo Della Perliet Il profumo È di una delicatezza Di un'eleganza Fresco Pulito È Buonissimo Perché Lo boccio Perché Non solo Non 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 è Completamente Persistente Si vanifica Quasi immediatamente Ed è un peccato Perché sa di buono Cioè È proprio Buono È buono Mi piace Ma Non No Non Non Credi Mi è un peccato Mi dispiace Bocciarlo Perché Mi piace da morire Se fosse Leggermente Più per Guarda Manche poco Perché poi sai È una di quelle cose Che costa 5 euro Spendono lo spruzzo Ecco Cioè io adesso Lo sento Per 40 secondi Dici tu Per 5 euro Cosa vuoi No Niente Non è che Pretendo Il profumo Più performante Dell'universo Per 5 euro Ok Me ne rendo conto pure io Però Pensavo fosse leggermente Più persistente Sai cosa mi ha lasciato Un pochettino così Che solitamente Io questi profumi Che costano poco Li ho sempre comprati Perché li tengo in borsa Nel borsalello zaino Li tengo in bagno Io quando finisco di fare la doccia Anche prima di andare a letto Mi do una spruzzata di profumo Perché mi piace A me piacciono i profumi Me li rimorrò Andavo a letto con lo Chanel Io vado a letto Per gli da 5 euro Perché io questo Non mi posso permettere Però Per dire Mi piace La spruzzata di profumi Perché a me piacciono Molto i profumi Mi piacciono i profumi Freschi E aggromati Però non mi piace Il fatto che Non Non mi profumano I vestiti Perché Li compro Questi profumini Che costano poco Perché Quanto meno Mi profumano i vestiti Quando uso questo Non mi profumano Neanche più i vestiti Non so come spiegarlo Non ho capito A cosa serve Che è un peccato Perché è buonissimo Sul fatto persiste Non persiste Sai Io credo Non credo Questo è molto soggettivo Perché dipende sempre Dipende sempre dalla pelle Non solo dai profumi economici Anche da altri profumi Ci sono profumi Che costano Centinaia di euro Che Non si sentono Su alcuni O cambiano completamente Ma sul profumo Guarda Apriremo Una parentesi Il profumo no È un mondo a parte Il profumo Un mondo Meraviglioso E affascinante Tra i profumi economici Sono quelli che Noi compriamo No Mi dispiace Il bocciato Questi sono i bocciati Del periodo Sono pochini Per fortuna Direi Perché In realtà Ci sarebbero Tantissimi Promossi Ma tantissimi Sto utilizzando Dei prodotti Secondo me Uno migliore Dell'altro Di alcuni ancora Non posso parlare Perché devono Ancora uscire Ma sono pazzeschi Fascia di prezzo Low cost E ti dico che Considerate la fascia Di prezzo Sono pazzeschi E altri Te li mostrerò Poi quando parlerò Dei promossi Perché ci sono Dei prodotti Che secondo me Andrebbero attenzionati Che si trovano in farmacia Tranquillamente online Con i quali Mi sto trovando Benissimo Comunque ne parliamo Lascia un commento Con i tuoi bocciati Perché è importante Così non prendiamo Delle sole Se ti va Oltre a scrivere Il nome del prodotto Scrivi Perché ti sei trovata male E se hai trovato Una soluzione Così se qualcun altro Ha trovato una soluzione Altro problematolo Può scrivere Se qualcuno ha questo Mascara di It Cosmetics Mi vuole scrivere Come lo applica Mi farebbe Una grande cortesia Grazie Spero che il mio video Ti sia piaciuto Da Annalisa È tutto Al prossimo video Ciao Sì la smetto Ho quasi 40 anni